Grazie. Perché purtroppo qua abbiamo avuto esponenti del gazzettino, del messaggero, hanno voluto delle informazioni e abbiamo perso un po' di tempo. Comunque li ringraziamo. Prego. E' vicino ai cacciatori da sempre e ho pensato che è utile anche sentire le sue opinioni. Sì, buonasera a tutti. Io ringrazio Feder Caccia di avermi invitato a questo importante convegno. Io, lo ha già detto il vostro Presidente Provinciale, non sono un cacciatore, però sono da sempre, per una serie di motivi che non vi sto a raccontare, di amicizia, di frequentazione, di precedente esperienza amministrativa, come assessore regionale, sono da sempre vicino al vostro mondo. Io volevo fare, e sono contento di poter parlare per primo, perché così darò modo ai relatori attuali, consiglieri regionali e rappresentanti di Feder Caccia, ha detto i lavori di fare delle riflessioni sui problemi che magari sollevo. Ho cercato di coniugare molto velocemente, sono quattro punti, alcuni dei problemi dei cacciatori, con i principi di cui la politica continua a riempirsi giustamente la bocca. La sussidiarietà. La sussidiarietà da molto tempo si insiste sul fatto che non deve fare il soggetto di grado più elevato quello che potrebbe fare, forse meglio, il soggetto di grado, ma non vuole essere offensivo di grado inferiore. La vostra associazione, alla quale dovrebbero essere riconosciuti maggiori poteri, leggo invece che l'assessore provinciale, peraltro della mia stessa parte politica, ma insomma bisogna essere corretti fino in fondo, ha annunciato che i corsi per gli aspiranti cacciatori non saranno più delegati alla vostra associazione, ma li farà la provincia. Mi sembra una cosa assolutamente inaccettabile alla luce del principio di sussidiarietà di cui abbiamo parlato. Secondo punto, l'ambiente. L'ambiente è una delle cose che mi fanno, che condivido con il mondo dei cacciatori, perché è assolutamente pacifico che l'ambiente va salvaguardato. Bene, sotto gli occhi di tutti la situazione della nostra campagna, coltivata per gran parte a soia e a mais, una volta fatto il raccolto. Desolazione. Allora a quel punto, ambiente vuol dire riqualificare, potenziare l'ambiente. Chiaramente si sottrae però la coltivazione, la possibilità di coltivare e di guadagnare agli agricoltori. Potremmo però pensare di compensare gli agricoltori per la perdita che loro hanno in termini di raccolta con dei contributi, perché no, questo vi potrà piacere meno, per raccogliere questi finanziamenti che si potrebbe pensare di utilizzare, parte dei danari che voi pagate alla regione. Terzo punto, la sinergia. Anche questo è uno degli elementi di cui si parla sempre. Facciamo squadra, no? Facciamo squadra, lavoriamo insieme, eccetera. Bene, se così è bisogna che venga riconosciuto ai vostri guardi a cazza volontari un rapporto migliore, quantomeno migliore, con i guardi a cazza della provincia. Dobbiamo però metterli anche in grado di poter svolgere con serenità e soprattutto in sicurezza il loro lavoro, problemi che vi insegnate. Allora a questo punto la soluzione è quella di risolvere il problema con le prefetture al fine di concedere il porto d'armi anche ai guardi a cazza volontari. Da più parti si dice, ah ma non è possibile perché i primi hanno le stellette, sto banalizzando, e gli altri no. Mi risulta, magari Roberto è più informato di me, che a Trieste non sia, da punto di vista territoriale, mi risulta che i guardi a cazza volontari triestini siano, la pistola ce l'ha. Quarto e ultimo punto, la semplificazione, altra questione che la gente continua a chiedere a politica, bisogna semplificare, bisogna sburocratizzare. Bene c'è il problema del vostro, del vostro, del porto d'armi che dura mi pare sei anni, e alla fine va rinnovato. E rinnovarlo per voi vuol dire proprio rinnovarlo, farlo nuovo. Bisogna rifare tutta la procedura e fare nuovo il coso. Mentre basterebbe, come per la patente di noi comuni mortali, la patente della macchina, andare lì, per l'amor di Dio, con i certificati medici, con tutto quel che serve, un bollino, un timbro, ed è rinnovato. Questo vorrebbe dire, va bene, per voi un risparmio di tempo straordinario, ma tornando ai problemi della pubblica amministrazione di cui dobbiamo farci carico, vuol dire un risparmio di energie assolutamente straordinario perché i loro impiegati potrebbero fare altro. Signori, vi ringrazio e buon lavoro.